L'operazione condotta alle prime ore di questa mattina ha consentito di sdominare un'associazione detta all'usura e alle istruzioni aggravata dal metodo mafioso, così contrastando il grave fenomeno presente sul territorio bagherese. Sono state tratte in arresto 10 persone, tra le quali lo storico capo del manavento mafioso di Bagheria, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla dedizione di struttura antimafia di Palermo.